La Fiera di Padova apre il 2020 all'insegna del nuovo corso dopo il passaggio definitivo dalla gestione privata a quella esclusivamente pubblica e lo fa con il ritorno di Itinerando, esposizione dedicata al viaggio dal 31 gennaio al 2 febbraio. Il format però si rinnova diventando di fatto la prima fiera in Italia dedicata al turismo esperenziale. Emozioni, conoscenze di tradizioni e territori, questo è il biglietto da visita con cui è stata presentata questa edizione che porterà in sei padiglioni 150 espositori. Itinerando punta così a portare a Padova tutti gli appassionati di cicloturismo, nautica, campeggio, cultura ed enogastronomia. Rappresenta un esempio lampante di come Fiera di Padova vuole focalizzare la propria attenzione su eventi di natura esperienziale, in questo caso il turismo, ma abbiamo fortemente voluto che le nostre manifestazioni destinate al pubblico siano focalizzate sull'esperienza del visitatore. Ci saranno anche ospiti illustri come Licia Colò e il giornalista esperto di turismo Patrizio Roversi. Insomma la volontà di Comune, Provincia e Camera di Commercio è quella di rilanciare il polo fieristico dopo anni difficili e soprattutto in vista della fine dei lavori e l'apertura del centro congressi. Grazie. 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 Grazie.